La Belfarma è un'azienda che realizza da oltre 35 anni sistemi automatizzati per la gestione della logistica e della produzione. Attraverso la ricerca e sviluppo con l'impiego delle più avanzate tecnologie, innova i prodotti rendendoli estremamente affidabili e allo stesso tempo offrendo le massime prestazioni realizzabili all'automazione. La Belfarma quest'anno presenta l'innovativo sistema automatizzato Medistro HL, ad alta densità di stoccaggio, la soluzione più veloce ed efficiente durante le fasi di carico, reperimento e consegne di farmaci al punto di richiesta. Medistro HL è in grado di gestire in modo completamente automatizzato il caricamento dei prodotti, gestendo in completa autonomia le date di scadenza attraverso i lettori barcode compatibili con la lettura dei codici 2D Datamatrix. Il sistema robotizzato inoltre permette la gestione di farmaci in modalità multipicking, fino a 8 prodotti contemporaneamente, sia in caricamento sia in consegna. Oltre a disporre del sistema ultra rapido per la gestione dei prodotti ad alta e altissima rotazione, a canali indipendenti autoconfigurabili. Oltre a disporre del sistema ultra rapido per la gestione dei prodotti ad alta e altissima rotazione, a canali indipendenti autoconfigurabili.